È un mese che faccio questa cosa qua, praticamente pubblico delle storie Instagram e nascondo il mio cazzo all'interno della storia, da un mese, adesso non l'ho detto a nessuno E se voi vi impegnate, trovate il mio cazzo nelle storie, è un mese che lo faccio e mi piace, cioè mi fa ridere